vado a sparare noggia oh sei sempre all'acqua si, solitamente sono dovuto fare quindi a più vuoto e tutta roba si va mamma mia ora si vede però no no si mette dentro si mette dentro così si prende perché comunque è un puntato per perlice no guarda 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 ma guarda 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 La piccola. La piccola e... Ci sono due fra il mediatur, due fra le piccole e il maschio che lo faccio seduto. Si vedeva da là. La più grossa? Sì, qua giù. Questa è una visantina. E così sembra già... sembra una vacca che sta a scendere. Questa è una visantina. E così sembra già... sembra una vacca che sta a scendere. Allora è un vitellone qua.